Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che fortuna. Così vi becco tutti. Ah, ma sono sempre i soliti. Perché vedo sempre le stesse facce io. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Ma due soli i botti? Gli altri? Ma cos'è, per allenamento? Ah, beh. Sì, ma è domenica prossima, no? La gara? È domenica prossima. Adesso avete una settimana per allenarvi. Adesso domenica questa facciamo la presentazione assieme ai ragazzi giovani e alle tasellane. Siamo in giro del paese. A che ora? Prima dei cieli. Ah, ok. Ma partite dove? Da qui? Ah, dalla piazza. Va bene, va bene. Oh la la. Si vanno ad allenare. Va bene, dai. Vogliono vincere il paglio. Ah, ok. Sera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.